Politemo Eventi si sposta a Massafra, stiamo cercando di girare un po' tutta la provincia di Taranto per mostrare durante questa stagione estiva i vari eventi, eventi che sono innanzitutto di promozione del territorio. L'area ionica dispone di tantissime risorse, ha una capacità di attrazione notevole, visti i nomi di grido che stanno raggiungendo il nostro territorio e quindi alla scoperta di Massafra, alla scoperta del cartellone estivo che già ha una sua simpatica denominazione accattivante, Yes Massafra. Apriamo questo speciale su Massafra con Michele Bommino che è l'assessore al turismo, allo spettacolo e ai lavori pubblici. Una piazza gremita, devo dire che manca ancora forse una mezz'oretta più o meno all'inizio dell'esibizione della performance di Shade, il famoso rapper torinese e quindi cerchiamo un po', facciamo innanzitutto un po' un bilancio parziale e come sta andando questa rassegna estiva? Sì, la rassegna estiva Yes Massafra, che è praticamente il cartellone di Massafra Estate, sta andando veramente alla grande. Ogni manifestazione sta attirando tantissimi turisti, ogni manifestazione sta coinvolgendo tante persone, nel massimo della sicurezza e quindi stasera c'è il concerto di Shade, che come si può vedere... I teenager hanno preso d'assalto la piazza? Già dalle 17 hanno preso d'assalto la piazza, quindi ci sono veramente migliaia di persone che stanno aspettando l'entrata in scena del rapper famoso. Il 17 agosto oltretutto c'è un altro evento molto importante con Simona Mollinari, quindi questi due sono gli eventi di maggior richiamo, però tutte le manifestazioni del cartellone stanno avendo un grosso successo e noi siamo contenti e soddisfatti della riuscita di tutte queste manifestazioni. Ed ecco dopo una lunga attesa, ecco Shade, la folla soprattutto di giovanissimi, lo acclama. E a Massafra vi presento Shade! Massafra porta nel cielo le mario! Massafra voglia la mano in su! Ate pausa! Life is now! Oggi vi spazza! Rientro le tre ma a sbaglio casa! Mi chiedo non sfuta, come va la vita! Fai le vacanze, faccio pratica! Praticamente pesante stativa che mandano la foto e finisco l'icina! A questa festa sono qui da un'ora! Vado e troggina così tanta roba! Che non mi hanno messo la droga nei miei bicchiere! Ma al mio bicchiere dentro la droga! Lei è assessore alla delega Assessorire al Turismo e si comprende bene come questi nomi hanno esercito ad una forza, rendono il territorio davvero appetibile, questi eventi sono uno strumento fondamentale per il marketing territoriale? Sì sicuramente, sono nomi di richiamo che praticamente fanno giungere qui turisti da ogni dove stasera mi dicono che veramente da tutta la regione, anche da fuori regione hanno raggiunto Massafra anche se poi anche con gli altri eventi hanno comunque attirato l'attenzione con percorsi turistici veramente è stato un cartellone ricco di eventi, con eventi enogastronomici, abbiamo creato un cartellone pieno di... Una combinazione di eventi tra promozione del territorio, enogastronomia, cultura, spettacolo e questa è la ricetta vincente per promuovere una realtà locale? Sì sicuramente questa è la ricetta giusta, noi ci abbiamo creduto, stiamo vedendo i risultati quindi veramente siamo soddisfatti e voglio ringraziare il sindaco per l'impegno e per la possibilità che ci ha dato a tutti noi di creare questo cartellone veramente appetibile a tutti i turisti Oltretutto è una piazza molto proprio così logisticamente molto accogliente quindi il palco qui proprio è il posto ideale davvero per attrarre... non è una di quelle piazze anguste ma è una piazza molto ampia e quindi favorisce questi eventi Sì praticamente è la piazza centrale di Massafra quindi abbiamo deciso che i due eventi più importanti i più importanti si devono tenere nella piazza principale nel salotto della città per accogliere sempre in maniera più accogliente i turisti che ci stanno raggiungendo da ogni dove Bene, 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 ma non benissimo Dice che parte per un viaggio mistico poi si fa tutto il villaggio turistico Dico bene ma se mi chiedi come va va bene, 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 ma non benissimo Bene, 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 ma non benissimo Esco d'estate e fa caldo caldissimo pratico anche a livello agonistico Dico bene ma se mi chiedi come va Mi dicevano di stare attento ma non ascoltavo dicevo non sento La diva parla solo col tuo accento pure il traduttore mi dice Che ha detto? Se non rispondi e se non ti muori io non rispondo delle mie azioni Mi mandi all'inferno troppi peccatori io mi metto in coda ma rimango fuori E vorrei uscire insieme una di queste sere fare un paio di cene Cosa viene viene ma fa troppe scene quindi cazzo bene Sono un capocano nero io non esco raggiunto per bene Sono raggiunto per bene Certo è vero ma fatto l'assistico Bene ma non benissimo Dice che sia un cesso ma simpaticissimo Bene ma non benissimo Sono raggiunto il team è buon giornissimo Bene ma non benissimo Dico bene ma se mi chiedi come va Va bene 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 ma non benissimo Antonio Del Rico consigliere comunale di Massafra delegato alla fascia costiera Una stagione estiva una serie di eventi Yes Massafra Che si dividono tra il centro di Massafra e la fascia appunto costiera Lei ha la delega la fascia costiera una crescita del territorio in chiave turistica Sì lo scorso anno il sindaco mi ha assegnato questa delega Perché come progetto di tutta l'amministrazione è quello di rilanciare le nostre marine Che purtroppo hanno una conformazione complessa sotto il punto vincolistico sotto il punto di attrazione turistica Quindi da quest'anno è stato acceso un riflettore davvero importante nelle nostre marine Sia per quanto riguarda interventi strutturali Piccoli interventi infrastrutturali Stiamo lavorando anche a delle progettualità molto più ampie Con RFI per quanto riguarda quella linea che spezza in due la nostra marina Dandoci non pochi problemi Abbiamo proposto un progetto al Ministero dei Trasporti affinché si possa fare una bretella Massafra-Castellaneta-Castellaneta-Marina Perché da allora in poi questa fascia ferroviaria non creerebbe problemi E a noi libererebbe un bel pezzo della zona per poter operare All'interno di questo abbiamo voluto anche attraverso momenti ludici Riproporre un attenzionamento concreto nelle nostre marine Tant'è vero abbiamo fatto due programmi che poi abbiamo amalgamato in un unico cartellone Che è appunto quello di Yes Massafra Nelle nostre marine siamo partiti con il giorno 26 luglio con Cantieri Comici Abbiamo fatto uno spettacolo di tre comici Si sono esibiti alternati sul palco Dino Paradiso, Renato Ciardo e Tommy Terrafino È stata una serata bellissima Di grande successo, grande partecipazione La gente si è divertita Ha iniziato ad apprezzare questo modo concreto di intervenire nelle nostre marine Abbiamo fatto poi un'iniziativa bellissima Per la prima volta c'è stata insieme alla collaborazione del comitato Prochiatona Stiamo svolgendo un trittico di film con temi sociali Abbiamo fatto cinema in spiaggia In sostanza diamo la possibilità a chiunque voglia partecipare di venire in spiaggia Un Lido ci ha dato la possibilità di metterci a disposizione Sdraio Quindi si vedono dei film sulla spiaggia, sull'arenile Un modo diverso di fare cinema Abbiamo già dato in onda app L'altra sera abbiamo fatto invece Pensieri Pericolosi E venerdì prossimo 9 agosto Daremo la proiezione dell'ultimo uscito d'ambo Parliamo di questo bagno di folla per Shade questa sera Sì, Shade è un personaggio che negli ultimi tempi va di moda, insomma, tira È stato protagonista assoluto lo scorso Festival di Sanremo Quindi ha vinto, se non erro, il disco d'oro Il disco con non so quante... L'idolo dei giovani L'idolo dei giovani, perché il target è questo, insomma Ragazzini che vanno dai 10 ai 15 anni, 16 anni E vediamo una piazza davvero gremita Volevo ricordare che quest'anno, tra l'altro, nelle nostre marine Compresa anche Marina di Ferrara, Verde Mare Do abbiamo fatto un'altra E loro hanno svolto l'undicesima edizione del Festival Canoro quest'anno Con Franco Cosa Hanno fatto anche una serata cabaret Quindi c'è un attenzionamento davvero importante nelle nostre marine Volevo ricordare un appuntamento molto bello Noi la notte di San Lorenzo Che è il giorno forse più importante Uno dei giorni più importanti dell'estate Avremo uno spettacolo pirotecnico fantastico Quindi invito tutta la cittadinanza della provincia Ad accorrere nelle nostre marine E gustarsi davvero una bellissima serata Bene, 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 bene Ma non benissimo Dice che parte per un viaggio mistico Poi si fa tutto il villaggio turistico Dico bene ma Se mi chiedi come fa Bene, 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 bene Ma non benissimo Bene, 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 bene Ma non benissimo È l'estate facendo caldissimo Pratico anzi all'inverno agonistico Dico bene ma Se mi chiedi come fa Una mano su tutti insieme Massafra Sindaco De Quarto Intanto il punto su Yes Massafra E questa sera davvero ci sentiamo più giovani Tutti teenager con Shade Manca una mezz'oretta, tre quarti d'ora All'inizio del concerto Ma qui davvero c'è un entusiasmo alle stelle Partiamo un po' il quadro di questa stagione estiva Allora in questa stagione estiva Il comune di Massafra Ha voluto elevare un attimino l'asticella della programmazione E anche sulle ali dell'entusiasmo di aver acquisito il titolo di città d'arte Abbiamo voluto elaborare un cartellone pieno di iniziative di carattere culturale Infatti in queste sere adesso siamo a metà stagione Ma ci sono state tantissime iniziative di tipo culturale Cinema al castello Cinema a mare La rassegna Vicoli Corti Iniziative nell'abita trupestre Di trekking urbano E poi molta musica Molta musica Stasera c'è Shade Che è un rapper di fama nazionale E siamo lieti che ci sia un'affluenza di pubblico veramente considerevole E il 17 avremo Simona Molinari Quindi un altro spettacolo che abbiamo voluto con determinazione E questo per aggiungere diciamo valore alle nostre iniziative Per attrarre turisti a Massafra Per incontrare i nostri concittadini massafresi In un clima che deve essere giustamente di allegria Di serenità Il nostro territorio non ha nulla da invidiare rispetto ad altre parti d'Italia E viene ovviamente valorizzato dalla presenza Viene potenziato il valore Dalla presenza di questi artisti che monopolizzano ormai Ecco vedete qui basta vedere ragazzi di 14-15 anni Presi dalla gioia È un modo di far crescere il territorio? Senz'altro sì In effetti nel nostro ragionamento abbiamo dato due direttrici Di attrattività del territorio Il centro storico E il litorale marino Quindi abbiamo fatto iniziative Tante nel nostro centro storico Per attrarre i turisti E per consentire loro di verificare direttamente la bellezza La meraviglia del nostro abito a Trumestre Del nostro centro storico Ma anche iniziative quest'anno Importanti con cantieri comici per esempio Nella marina di Massapra Perché dobbiamo tentare di essere competitivi In tutte le sfumature del nostro territorio Quindi sia la sfumatura a mare Che il nostro centro storico bellissimo E anche le zone culinari Perché no? Bisogna in prospettiva dare valore e attrattività anche a quelle aree E quindi penso che il risultato sia stato raggiunto A giudicare dalle presenze che ci sono state in queste sere a Massapra Nel litorale di Chiatuna Nel centro storico Quindi siamo soddisfatti Io devo ringraziare l'assessore Bommino Il consigliere delegato alla fascia costiera del Rico E tutta l'amministrazione Che davvero ha voluto elaborare questa stagione estiva Che appunto si chiama Yes Massapra Che ha il suo sito internet dove si può scaricare il programma Dove si può interagire E finalmente diciamo i risultati sono visibili Anche in queste serate di consenso di pubblico Essere sincero Potevi anche farmi a meno Di dirmi tu sono zero Senza guardarmi nemmeno Sincero Non vedo il bicchiere Mezzo vuoto Mezzo pietro Sempre vuoto Con il cero Con il cero Sono stagione Se saranno di lo cero Questa è la verità Se mi chiedi come va Va bene 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 Ma non bellissimo Bene 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 Ma non bellissimo Dice che parte per un viaggio mistico Poi ci fa tutto il villaggio turistico Dico bene ma Se mi chiedi come va Va bene 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 Ma non benissimo Bene 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 Ma non benissimo Esco d'estate qua caldo e caldissimo Pratico anzi a livello agonistico Dico bene ma Se mi chiedi come va Cerco lavoro ma ho fatto l'artistico Bene ma non benissimo Dice si è un cesso ma simpaticissimo Bene ma non benissimo Sul suo profilo scrive buongiornissimo Bene ma non benissimo Dico bene ma Se mi chiedi come va Va bene 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 Ma non benissimo Di più bene 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 Ma non benissimo Dico che parto per un viaggio mistico Ma qua ma sta fra spaccate tantissimo Maria Cristina Ricci vice sindaco di Massafra Una rassegna estiva una serie di eventi Davvero una rassegna completa E quindi anche il momento gli eventi dello sport Delega di cui lei è detentrice Sì come ha detto Massafra quest'anno Vede interessata una rassegna estiva molto importante Ci sono eventi e manifestazioni che riguardano un po' tutto L'arte, lo spettacolo, la musica E a chiusura di questa rassegna estiva di Yes Massafra C'è appunto lo sport Siamo alla seconda edizione di Sport Generation È una manifestazione che riguarda tutte le associazioni sportive Presenti sul nostro territorio Nella nostra città di Massafra L'intento appunto è quello di fare promozione dello sport Ma è anche festa dello sport E far conoscere a tutti i massafresi le attività sportive che ci sono sul nostro territorio Ma sarà anche un momento di divertimento e di coinvolgimento degli stessi cittadini massafresi Che faranno parte di questa manifestazione Lo sport come momento di aggregazione e di socializzazione? Certo, certo che sì Sicuramente è importante lo sport Sia per quanto riguarda il benessere Ma anche appunto aggregazione che riguarda coinvolti tutti Grandi, piccini, anche coloro che comunque hanno handicap Perché lo sport appunto è aggregazione sociale Buonasera a tutti Massafra I console, i miei DJ e produttori Kisi e Gioro Siamo tutti pugnesi sul palco stasera Incredibile È un piacere essere qui Siete veramente caldi Ma così caldi che non vi chiedo di tirare su una mano Vi chiedo di tirarle su entrambe Tutti, tutti, tutti Voglio sentirvi dire Oh, oh Ancora Oh, oh Oh, oh Dite Sade Più forte Sade E ritorno di Sade Panni di offerte e proposte pisciate Voi parlavate male ma la cosa vi rimane Solo mare di cazzate Solo quale ci sape No Non ridotto di baffi Zero lipster C'è un futuro in una foto Zero pixel Seguro chi sa peggiorno mi sento meno triste Suo paese va più tale Alla meno frizze Con il dinimo veloci pardo Maduri sul palco Meno di manco Non so questa roba Fra nemmeno vi guardo Come ho preso di piatto Nel mero di malcom Non mi fermo nemmeno Se fremo il freno Nel girone dell'inferno Sono primo a putterci pieno Ciao Ciao Ciao